Buongiorno, mi chiamo Samuele Scimenez e sono il nuovo consulente tecnico commerciale per la zona centro-sud Sardegna. Il mio lavoro è ogni giorno inventarsi, assistere il cliente in tutto e per tutto e soprattutto tanta organizzazione e tanta competenza tecnica. Un venditore Urmet inizia la giornata la mattina presto ovviamente, è già organizzato dalla settimana precedente, inizia un iter di visite di clienti in base alla zona di appartenenza e fa delle visite mirate per cercare di concludere qualche ordine. Tre cose che porto sempre con me, sono ovviamente le valigie dimostrative, tutti i cataloghi del caso e tanta buona volontà. Il brand Urmet è un brand di altissimo livello, è andato verso una politica di integrazione di sistemi dedicati al cliente finale che soddisfano le famiglie e soddisfano l'installatore per la semplicità di utilizzo e per la completezza del catalogo. A fine giornata purtroppo è il momento dei conteggi. Più che altro perché l'ambiente dell'installazione, l'ambiente elettrico in generale è sempre stata prevalenza maschile, nonostante le poche che ci siano sono molto competenti e molto preparate. Io ho un quarto settimo. Questa la tagliamo, sennò mi prendono per un alieno. La mia squadra del cuore ovviamente è il Cagliari Calcio che quest'anno un po' patisce la Serie B, però speriamo per l'anno prossimo di rivederla in A insieme alle grandi big.